benvenuti e bentornati sul canale in questo video proveremo la nuova app dji fly 1.2.1 con il mavic air 2 e il nuovo firmware 1.00.0460 vediamo come si comporta in volo il mavic air 2.00.0460 vediamo come si comporta in volo il mavic air 2.00.0460 vediamo come si comporta in volo il mavic air 2.00.05 tiriamo le conclusioni durante il volo il drone si è comportato in modo impeccabile nessun problema né del drone né dell'app se non siete iscritti iscrivetevi al canale contribuirete alla crescita del canale inoltre potete seguirci sulle nostre pagine social facebook e instagram un saluto e prossimi video